ciao a tutti qui dall'accademia del fantacalcio sono abel alves e oggi vi do un consiglio di come sistemare al meglio le persone tanto mi da fastidio questa cosa che non mettono la formazione che non schierano la formazione ok principalmente a fine campionato quando vedono che non possono più vincere truccano il campionato e la mettono in quel posto a tutti ecco una cosa che dà fastidio perché è proprio nel momento in cui c'è bisogno di serietà di persone che giocano e che hanno il rispetto verso gli altri queste cose vengono a mancare ma come possiamo gestire al meglio i furbetti o quelli che hanno lasciato perdere o gli stronzi che non mettono che non schierano la formazione al fantacalcio può capitare che uno si dimentica può capitare a tutti noi ok non è che adesso se uno non mette la formazione una volta perché si è dimenticato lo dobbiamo diciamo colpire in testa con una massa però a tutti quelli invece che arrivano diciamo metà campionato e vedono che sono ultimi in classifico comunque sono nelle parti basse e non nei paesi bassi ma nelle parti basse decidono appunto di non mettere mai più la formazione non stanno più attento beh le dobbiamo gestire perché possono diciamo truccare il campionato e questo non ha senso e insomma se può ci possiamo arrabbiare noi e tutta la lega sarà un po diciamo frustrata e confusa da questa situazione qui la prima cosa che si deve fare secondo me è quella di fare in modo che queste persone qui siano penalizzate cosa significa che se tu non metti la formazione non perdi quella giornata lì cioè quella giornata dove tu non hai messo non hai schierato la formazione non è che ti viene fatta in automatico la formazione vecchia che hai messo ancora prima ma secondo me ci dovrebbe proprio essere la regola sempre che quella partita la perdi a tavolino ok perché così c'è più serietà perché devono vincere devono diciamo stare tra i primi anche quelli più costanti quelli che sono che si impegnano sempre e non la persona che appunto ogni tanto se ne frega oppure si dimentica sempre di mettere la formazione quindi secondo me penalizzare la squadra che non mette la formazione sia la cosa la prima cosa che si deve fare però nel caso in cui questa persona è già ultima in classifica e non se ne frega proprio ci sono altre due cose che si possono fare la prima è far pagare una multa e questo quando parliamo di soldi quando tiriamo fuori il cash e chiediamo soldi da queste persone forse passeranno anche non soltanto una ma due ma tre quattro volte dieci volte prima di non mettere la formazione possiamo fare in questo modo cioè fare una soglia di massi massimale per cui poi diciamo non mettere la formazione in tutta la stagione puoi dimenticare ok di mettere la formazione soltanto tre volte dopodiché ogni volta che non mettere la formazione dovrai pagare per rispetto a tutti gli altri una quota che va dai 5 ai 10 euro per ogni volta che non metti la formazione se fai una regola del genere sono sicuro che almeno la metà delle persone che non mettono la formazione la metteranno sempre in tutte le partite ok in tutte le giornate poi l'ultima cosa che vi voglio lasciare è un'altra cosa perché questa è la paura si va a gestire la persona invece si può anche incentivare anche la persona che ultima in classifica o comunque non può più vincere il campionato a schierare sempre la propria squadra ed è quella di dare un premio ok un premio oltre a fare tantissime leghe nel senso che tantissime leghe tantissime competizioni che può essere la coppa italia perché se uno non è non è diciamo tra i pappabili al titolo nel campionato può giocare può vincere la coppa oppure la cosa interessante di dare un premio per la squadra che ha sommato più punti in una partita cosa significa metti il caso che quella squadra specifica anche se ultimi classifica fa quei 10 gol una partita 8 gol 6 gol adesso dipende da quanti gol riuscirete a fare quella squadra anche se ultimi classifica prenderà non so mettete voi 50 euro 100 euro dipende da quanti giustamente dalle quote dal valore diciamo dei premi totali che avete ok quindi possiamo gestire sia penalizzando la squadra punto 1 che ho lasciato qui con voi che ho condiviso con voi la seconda cosa che potete fare è mettere un po di paura e prendere diciamo mettere le mani nelle tasche di questo fontallenatore che si cagherà addosso quindi non vuole pagare nessuna quota in più e quindi con la paura possiamo gestire questa queste persone qua e l'ultima cosa che si può fare è quello di dare un incentivo invece a crescere quindi un incentivo alle persone di comunque anche se sono in un momento del campionato brutto o se sono ultimi classifico tra gli ultimi di comunque vincere un premio se ti è piaciuto questo video mi raccomando seguici perché avremo tantissimi video ogni giorno per voi ok su consigli sul fantacalcio e non solo quindi mi raccomando iscriviti al canale lasciaci un like qui sotto e ci vediamo al prossimo bellissimo video